In questo video vengono illustrati alcuni passaggi per la preparazione di una volpe. Il soggetto in questione è un giovane e è venuto deceduto per caso occidentali. Nonostante alcuni difetti sul pelo, il risultato finale è una buona preparazione. Come si può notare costruisco io stesso i manichini in base all'anatomia del soggetto trattato. Possono essere fatti in base alle posizioni che uno desidera. Anche in questo caso l'espressività che risalta all'occhio è dovuta anche dal manto in cui si presenta in quel periodo il soggetto. Trovando un enorme differenza tra manto estivo e manto invernale. Grazie per la visione!